Ne 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 signori buongiorno buon pranzo a tutti oggi cosa raccomano allora pomodoro piccadille e una bella ricottina ricottina veramente accattata supermercato nel ferone ricotta regate la mamma di base adesso vi auguro a tutti buon pranzo e anche se diciamo che oggi non ho cocinato ho fatto sto sto piccolo pomodorino e per stare insieme a voi come faccio senza di voi ragazzi come come la ricottina il pomodoro ci miso il burro lariano un po di origano che c'è un profumo del nazionale perciò che origano di mazzara del ballo la cosa veramente fuori 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 dalla norma una due tre alle 100 23 fumano leggo non si può levare ragazzi buon pranzo a tutti alla prossima ciao